Allora la gara deve continuare per piacere ai mossieri Aiutateci a liberare il campo I capitani Allora scusate ai mossieri per piacere dobbiamo scomprare il terreno per cominciare la gara Tiratevi via Giandre Signori la gara deve continuare per piacere uscite fuori dal campo Lo sta chiedendo per piacere io penso anche per una questione di cortesia La gara deve riprendere Non stiamo allo stadio non ci stiamo a giocare niente Se no Sergio prendiamo la sua decisione Cioè dobbiamo essere prigionieri di che cosa non riesco a capire scusa Cioè si chiude punto Cioè qual è il problema Non è il problema Allora io non riesco a capire il motivo Non siete d'accordo con la decisione E va bene Se ne riferissi non resti d'accordo Però questa protesta fatta in questo modo Non credo che giovi ad alcuno Grazie 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 Grazie